Pane, posti ben fatta Mi dice qui tre due modi giù nel caricole A'udhu billahi minas shaytanir rajeef Bismillahirrahmanirrahim Qul huvallahu ahad Allahu samad Lam yalit wa lam yulad Wal yalit wa lalhi huvallahu ahad Insanun ki rahmamai ke liye Malik A'zha wa Jal'nei Anbiyah arish sara wa saraan ka salsla cala ya Anbiyah ka ish salsla ki aaf li kaadi Mحمed Rassol Allah S.A.V. M'è parma La Nabi M'è pari Koi Nabi Nabi M'è la Nabi L'è che M'è un'ambiente Chegno 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 e il risultato del terzo in cui è arrivato a qui e ciò che è e l'anno con una grande una grande salato al-sèr abdolaziz bin abdolah bin vaz raffatullahi al-alè d'ora di ciò che allah gli abdolò e la tua allah gli abdolò e la tua il raffatullo che il raffatullo che ci sono ciò che ciò che ciò che ha ... ... ... ... ... ... ... grazie a tutti 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 grazie a tutti